Il Comando Provinciale, la Guardia di Finanza di Avellino, con una sobria cerimonia a carattere esclusivamente privato, ha celebrato il 245esimo anniversario della Fondazione del Corpo. È stato anche il momento per tracciare un bilancio di questo anno e mezzo di attività. Frodi Carosello, in debita e compensazioni a traffici lecidi di prodotti petroliferi, si confermano al centro dell'attenzione operativa della Guardia di Finanza, settore in cui nel 2018 e nei primi cinque mesi del 2019, ha eseguito nell'ambito di piani di intervento coordinati all'Agenzia delle Entrate, 723 interventi ispettivi. Sono stati rinunciati 66 soggetti e ammontano ad 89 le indagini delegate dalla magistratura e a 1.960.000 euro le proposte di sequestro avanzate. Le misure patrimoniali eseguite sono pari invece a 900.000 euro. Nel contrasto all'economia sommersa sono stati individuati 84 soggetti sconosciuti al fisco che hanno evaso complessivamente 15 milioni di IVA. Inoltre sono stati verbalizzati 69 datori di lavoro per aver impiegato 200 lavoratori in nero o irregolari. Nel settore dei giochi e delle scommesse illegali, i controlli eseguiti sono stati 187 con 13 violazioni rilevate. Sono stati sequestrati 10 apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Irrogate sanzioni per 26.000 euro. Sul fronte del contrasto alla criminalità economico-finanziaria sono state 1939 le attività ispettive condotte allo scopo di individuare le diverse forme di infiltrazione e gli interessi finanziari, economici ed imprenditoriali e la criminalità. Sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 152 soggetti e ammontano invece ad oltre 2 milioni di euro il valore dei beni sequestrati. Intensificata anche l'azione di contrasto in materia di falsificazione monetaria con l'obiettivo di ricostruire l'intera filiera del falso. In tale comparto operativo sono stati rinunciati 22 soggetti, uno dei quali è stato tratto in arresto con l'esecuzione di sequestri di valute, titoli certificati e valori bollati contraffatti per un valore complessivo di oltre 80.000 euro. In tema di sicurezza e di prodotti, di contrasto alla contraffazione al falso made in Italy, e di lotta all'illecito sfruttamento economico delle opere protette dal diritto d'autore, i reparti operativi hanno eseguito oltre 66 interventi e svolto 20 deleghe dell'autorità giudiziaria, sequestrati oltre 2 milioni di prodotti industriali contraffatti con falsa identificazione made in Italy o non sicura perché non rilevanti quantitativi di prodotti alimentari, recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere circa l'origine e la qualità. Ammontano invece a quasi 5,3 kg le sostanze superfacenti sequestrate dai reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Avellino tra il gennaio 2018 e il maggio 2019. 4,3 kg tra hashish e marijuana, 670 g di cocaina, 330 g di altre droghe unitamente a 260 piantine di cannabis. 17 soggetti sono stati arrestati da un automezzo utilizzato per l'illecito traffico e stato sequestrato.